Il trio Corrensci è un trio brasiliano, due musicisti sono di San Paolo e un terzo è di Florianopolis, dico bene? Mamma mia, ho studiato oggi come dicevo, ho studiato a fondo. Questi tre musicisti, li vedete qua, eccoli qui, sono Fabio Torres al pianoforte, Ed Uribeio alla batteria e Paolo Paurelli al basso e al contrabbasso. Qualche tempo fa, un paio d'anni fa, adesso li diamo qui sul palco, stanno lì in attesa, un paio d'anni fa io li ho conosciuti su Youtube, facendo le ricerche che tutti facciamo nelle zone di passione di ognuno di noi, io chiaramente cerco sempre cose nuove e li ho conosciuti e devo dire che mi hanno molto colpito dal primo ascolto, perché loro fanno un brasilian jazz molto moderno e molto particolare che sentirete, non c'è bisogno di chiacchierare sulla musica. La prima cosa che ho fatto, ho acquistato un libro di Fabio Torres che è interessantissimo sulla tecnica pianistica della musica brasiliana e poi il caso avvoluto è che qualche mese fa ho assistito a un concerto della loro manager in Italia che è Mel Freire, che è lì, che è una cantante brasiliana. Il caso avvoluto è che parlando poi alla fine del concerto, dice ma io tratto diciamo qui in Italia per il trio corrente, dico ma allora bisogna che in qualche maniera li facciamo venire, insomma poi c'è stata l'occasione e li abbiamo portati qua. Domani sera saranno a Roma all'Alexander Plaz e poi vanno a Pavia per fare un'altra data al conservatorio e a Bustarzizio la sera, perfetto, quindi faranno un po' di giri. A questo punto io non dico altro perché non c'è bisogno, la musica parla sempre più delle chiacchiere e invito sul palco. Partiamo da Edu Ribeiro, che è il batterista di questo... Vai Edu! Eccolo! Ha la batteria! Poi facciamo salire Paolo Paolelli, basso e contrabbasso, Paoligno! Vai Paoligno! Paoligno non si diverte! Eccolo qua Paoligno e da ultimo, io lo lascio per ultimo perché il pianista mi sta più nel cuore perché io sono al pianoforte, Fabio Tor nel corazon, Fabio Torres dal piano! Corazzo, corazzo! Allora grazie al trio correnci e buona scorta a tutti! Grazie a te! Bravo Alberto! Grazie a te! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. a tutti. Sogniamo. Sogniamo. Cinco. 5? a tutti. 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 un'altra. a tutti. 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 a tutti.